Bentornati a questo corso di filosofia online su YouTube. E adesso andremo a leggere quel brano, come promesso nel precedente video, tratto dal commentario filosofico dal libro sulla tolleranza universale di Pierre Bell. Abbiamo già avuto modo di mettere in evidenza nel precedente contributo video e richiamo alla tolleranza e come questo sia un grande tema dell'illuminismo. L'esigenza e l'elogio della tolleranza compare già in Locke e in modo particolare appunto negli scritti di Pierre Bell, la cui opera più famosa, ricordiamo, uscita postuma, è il dizionario storico e critico. Presentata come una descrizione degli errori che impediscono la determinazione dei fatti storici, si configura come una critica alla tradizione e una riflessione sul modo in cui deve essere scritta la storia e anticipa, nella ricerca delle fonti e dei documenti, la tematica illuministica della ragione critica. Nel brano invece del commentario filosofico che andiamo adesso a leggere c'è un'esaltazione del rispetto reciproco della diversità delle idee e la famiglia di Bell calvinista che fu colpita dalla revoca dell'editto di Nantes nel 1685 con cui si poneva fine in Francia la libertà di culto dei protestanti conosceva bene la mancata tolleranza. Si sostiene che non vi sia peste più pericolosa in uno stato della molteplicità delle religioni, poiché essa suscita il dissenso tra padre e figli, tra mariti e mogli, tra principe e sudditi. A ciò si deve rispondere che, lungi dall'essere un'obiezione nei nostri confronti, ciò costituisce una prova assai forte in favore della tolleranza. Questo brano è strettamente legato alle controversie religiose, è appunto un elogio della tolleranza fatta da Bell. Vedete come all'inizio Bell rovescia la giustificazione tradizionale per cui la differenza di opinioni religiose condurrebbe al disordine e invece afferma che non è vero che più religioni e più disordine. Per Bell più religioni portano a maggiore tolleranza. Infatti, se la molteplicità delle religioni nuoce a uno stato, ciò accade esclusivamente perché l'una non vuole tollerare l'altra, ma vuole invece eliminarla mediante le persecuzioni. Inc prima mali labes. Ecco, è qui l'origine del male. Questo verso è ripetuto anche da Virgilio nell'Iliade, nel secondo libro dell'Iliade, ma è riferito in relazione a Ulisse. Se ognuno avesse la tolleranza che qui sostengo in uno stato diviso tra dieci fedi religiose, vi sarebbe la stessa concordia che sussiste, attenzione, guardate Bell come dice, che sussiste in una città nella quale le varie categorie di artigiani si sopportano reciprocamente. Allora, innanzitutto bisogna, come dire, porre attenzione al verbo che sceglie, no? Si sopportano reciprocamente. E poi il parallelo che viene fatto appunto fra la religione e l'economia, parla di artigiani, e i religiosi li paragonano agli artigiani, c'è un paragone tra religione ed economia che del resto è ricorrente altre volte. Per esempio, Voltaire utilizzerà l'esempio della Borsa di Londra in cui si incontrano amichevolmente cattolici, protestanti ed ebrei. Quindi il venir meno di una concezione unitaria della realtà, almeno dovuta appunto alle lotte di religione, sicuramente con causa di questa frantumazione della realtà, facente capo a Dio, è accompagnato da un'economia diversificata e assai più, come era quella del secente, assai più complessa di quella curtenze e agricolo feudale. Quindi l'esigenza della tolleranza, Cisce Bell esprime e promuove questo nuovo stato di cose. Toleranza, il tema della tolleranza come grande tema della modernità. Continuiamo a leggere Bell. Il risultato sarebbe quello di un'onesta emulazione a chi meglio riesce a segnalarsi per pietà, per buoni costumi, per scienza. Ognuna, ciascuna religione, in un sano consenso civile aspirerebbe a provare che è maggiormente amica a Dio, testimoniando un attaccamento più forte alla pratica delle buone opere e al tempo stesso cercherebbe, essa religione, detta religione, di mostrare il massimo attaccamento alla patria. Vedete come ha una curvatura anche politica la tolleranza. Più religioni, più tolleranza, più anche una competizione, una sana competizione fra queste religioni per mostrare un maggiore attaccamento al beneficio per lo Stato se il sovrano, attenzione qui, le proteggesse tutte tenendole in equilibrio mediante la propria equità. Qui si ricorda anche il periodo storico della lotta dei tre Enrichi, dove c'era l'Enrico di Navarra, l'Enrico di Guisa, che si, no, gli Enrici cattolici, gli Enrici protestanti che a fine Cinquecento si fronteggiavano in modo tutt'altro che pacifico ma sanguinario. Allora, qui occorre mettere in evidenza ancora una volta le conseguenze di alcune affermazioni. Quindi da un lato la concordia e l'emulazione presuppongono pur sempre una comune idea di Dio. Comunque le religioni si parla di quelle monoteiste. Si ricordi che in Locke, per esempio, gli atei erano banditi, erano esclusi dalla tolleranza. Dall'altro, il linguaggio di Bell tradisce gli aspetti negativi contenuti appunto nell'idea di tolleranza. Le religioni diverse debbono, come gli artigiani, sopportarsi reciprocamente. ma adesso veniamo al concetto di tolleranza che comporterebbe armonia e serenità nella vita civile. Qua il pensiero ci va a Lessing, il principale esponente dell'illuminismo tedesco, che nell'opera teatrale nata nel Selvaggio, grande drammaturgo, filosofo, eccetera, in cui riprendendo un'antica leggenda si mostra l'impossibilità di decidere quale sia la religione più vera delle altre. Allora, la storia è già trattata anche in boccaccio, stiamo parlando del boccaccio della terza novella, della prima giornata. Un padre morendo, non potendo decidere a quale dei tre figli lasciare un anello prezioso, simbolo appunto della sua predilezione, pegno dell'eredità, ne fa costruire altri due perfettamente uguali, per cui risulterà impossibile stabilire quale sia il figlio prediletto. Ora, uscendo dalla metafora, naturalmente il padre morente è Dio e i tre figli sono le tre religioni monoteiste, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islamismo. Però anche qua c'è una come dire, c'è una una sottigliezza appunto da sottolineare. Comunque dei tre alelli uno è solo quello vero e le altre per quanto perfette sono comunque imitazioni. Comunque c'è una preferenza fra le tre religioni ma ovviamente lo veniamo a sapere noi che siamo appunto edotti che siamo studiati che abbiamo che sappiamo quindi comunque anche la storia di Lessing tratta appunto già trattata in boccaccio più che una vera tolleranza mostra un relativismo della tolleranza più che una equivalenza una equidistanza fra tutte le religioni. Certo è che il percorso tematico di Bell e qui concludiamo è che la tolleranza religiosa e la molteplicità delle religioni sono utili al processo di una società perché permettono e favoriscono l'emulazione tramite la quale gli uomini si impegnano anche moralmente anche socialmente anche politicamente a mostrare la superiorità della loro fede attraverso però in un modo positivo e non attraverso la guerra l'opposizione e la reprimenda ma attraverso le opere giuste e i comportamenti adatti signore e signore qui chiudiamo con questo commentario di questo breve brano ma densissimo di Pierre Bell chiudiamo su Pierre Bell e successivamente vediamo come ci dicono Massarenti e Di Marco andremo ad affrontare la questione del gius naturalismo e poi andremo avanti procederemo con i platonici di Cambridge ci fermiamo qua vi ringraziamo per l'attenzione per condividere con noi il vostro tempo e come dire di partecipare con la vostra visione a queste conversazioni filosofiche su YouTube ovviamente il mezzo è quello che è ma permette permette in questo in un corso cioè questo corso di filosofia su YouTube si permette di fare degli approfondimenti che purtroppo a scuola non si possono fare più per tirannia del tempo e perché quello che resta dei programmi è sempre più come dire denso e e è compresso e compatto ma per fortuna c'è questo come dire spazio di di libertà e di comunicazione per quanto a volte univoca iscrivetevi al canale lasciate un like se questi video sono di vostro interesse o conoscete altre persone che siano interessate a questi argomenti fate circuitare i video guardate sempre il link in descrizione qua sotto perché lasciamo sempre un altro video da vedere che come dire sia di approfondimento all'argomento trattato nel video testè visto Pierbel lo ripetiamo morirà all'inizio del settecento nel 1706 ma avrà ormai già lanciato l'aire avrà dato alla metà del settecento l'offklerung l'illuminismo grazie alla prossima